Cosa hanno in comune un orso e della cocaina? Scopriamolo insieme! Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, io sono Serena di Ciaccazione ed eccomi tornata con voi per recensirvi un film. Un film che se non sbaglio in Italia è uscito il 13 aprile, qualche giorno fa, ma che io ho visto già un paio di settimane fa in anteprima. Il film in questione è Cocaine Bear, in italiano è Cocaine Orso, del 2023, quindi di quest'anno, diretto da Elisabeth Banks e prodotto dagli Universal. È uno di quei film che o ti piace o non ti piace, o lo ami o l'odio, o l'odi, non credo ci sia una via di mezzo. Stavo leggendo qualche review l'altro giorno e ho letto titoli un po' contrastanti. Allora, adesso vi li leggo perché ho il foglio qui davanti, ecco, prendo il foglio, foglio di Harry Potter, ecco qua. Allora, qualcuno l'ha definito, film buono ma solo per i meme, in effetti non hanno tutti i torti per quanto riguarda i meme, un film sdentato, non ho capito nemmeno cosa, cioè ho letto l'articolo ma non ho capito nemmeno cosa volesse dire, non credo che sia stata una review positiva. Qualcuno ha scritto, semina terrore. Può darsi, io che abito in Abruzzo, magari qui l'orso Bruno è l'orso che si trova nelle nostre montagne. Non so se la gente vorrà più andarci nelle montagne abruzzesi. E poi invece ci sono stati alcuni titoli come Una sorpresa, oppure questo qui che mi ha fatto abbastanza ridere. Non ridevo così da Scary Movie. Allora, ragazzi, cioè, se è vero che la comicità e i film non fanno più ridere come quelli di una volta, però da Scary Movie quanti sono passati? Penso quasi 20 anni, 15 anni, minimo, adesso non ricordo bene l'anno. Se questa persona non ha trovato nessun film che gli abbia o le abbia fatto ridere da allora, credo che abbia un problema. Ma, bando alle ciance, torniamo a noi e vi parlo un po' del film. In breve, 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 promesso. Allora, abbiamo molti protagonisti in questo film. Abbiamo i pazzi, completamente pazzi, i cocaenomani, abbiamo dei bambini, abbiamo una madre e abbiamo una... Non ho capito chi era lei, se era tipo metà sceriffo, metà negoziante o qualcosa del genere. Comunque, ovviamente troviamo molte morti perché cocaine bear, cocaine orso, significa che un orso comunque si è preso della cocaina. Questo è, diciamo, la grande trama del film e quindi fa danno in giro, più di quanto un orso non farebbe danno se non prendesse la cocaina. Quindi, come protagonisti comunque abbiamo tra i più famosi, Ray Liotta, che purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno, quindi questo è stato il suo ultimo film. Scusate. E poi, Kerry Russell, che molti la ricorderanno sicuramente per il telefilm Felicity. Già vi posso anticipare che, personalmente, se dovesse andare a spendere quei 5, 7, 10 euro al cinema per questo film, no, non ci andrei. E considerate che io sono una di quelle che si vedrebbe, si vede no perché sarebbe quasi impossibile, ma si vedrebbe tutti i film al cinema. Questo magari i soldi me li terrei per qualcos'altro, se devo essere sincera. Però, non è proprio così brutto come l'hanno descritto in alcuni articoli. Allora, la trama è, insomma, più o meno quella che vi ho spiegato prima, però vi dico in più che, diciamo, Elizabeth Banks ha preso, ha fatto il film, ha girato il film da una storia vera. Infatti, ci troviamo nello stato della Georgia, negli Stati Uniti, nel 1985, e un cocanomene, non si sa come o perché, si butta da un aereo con un sacco di cocaina. Non vi dico cosa succede al cocanomene, scusate, ma vi dico semplicemente che questa cocaina va dispersa in questo bosco. Questo bosco vive un orso, è l'orso che fa, la vede, la sniffa e quindi fa danni in giro. Troviamo, quindi, dei bambini che si perdono nel bosco e la madre di uno di questi preoccupati, perché giustamente questi bambini, invece di andare a scuola, vengono lasciati da soli a vagare nel bosco. Vabbè, americanate, insomma, diciamoci così. Questi bambini si perdono in questo bosco, incontrano l'orso. Una di lei, la bimba, viene presa da questo orso, quindi fino a un certo punto non sappiamo se fosse via o fosse morta. L'amico si riunisce con la madre della bambina e cercano questa bambina. Nel frattempo ci sono dei ragazzi completamente fuori di testa e addicte alla droga, diciamo, con quei nomini. Più sceriffi ed altre persone che cercano di trovare questo orso, ma soprattutto cercare l'orso per prendersi la droga per poi andarsela a vendere. Quindi si svolge quasi, quasi interamente questo film in questo bosco e si cerca questa droga, mentre la mamma cerca i bambini. Ovviamente ci sono, rido perché mi ritornano in mente, delle scene, tra virgolette, simpatiche, dove ci sono dei combattimenti, se così si possono chiamare, tra gli umani e questo orso completamente andato. E c'è una scena bellissima, scusate ancora se rido, forse è vero che ha fatto ridere questo film, non l'unico film, il primo film da scary movie, però ha fatto ridere, dove una persona viene, l'orso sviene e una persona viene bloccata sotto quest'orso, ovviamente è vivo, ma non si può muovere, quindi lì nasce veramente una scenetta da meme fantastica. Poi, non vi vorrei dire come finisce, come non finisce, anche se comunque la trama è proprio, come diciamo noi, spiccia spiccia, quindi molto facile, molto easy, si può immaginare come vada a finire. Quello che vi posso dire è che, se avreste in futuro la pubblicità di vederlo nelle piattaforme, vedetelo sicuramente. Se dovete andare a spendere dei soldi e biglietti, solamente o se siete ricchi o se è veramente un pomeriggio, non avete niente da fare e volete andare. Ultima cosa da dire, che comunque in America al botteghino, nella prima settimana, comunque ha guadagnato i suoi 50 milioni, quindi non è andato malissimo. Forse la gente ultimamente ha bisogno di ridere, quindi evidentemente questo per molti è stato il film giusto per ridere. Elizabeth Banks, un po' di tempo fa, disse che se il film fosse andato bene, probabilmente avrebbe fatto un sequel, ma non sul, diciamo, sull'orso, anche perché voglio dire quanti orsi drogati ci vogliono sta, poi rifare la storia sullo stesso orso non avrebbe senso, quindi volevo usare uno squalo, quindi probabilmente in futuro ci ritroveremo uno squalo cochenomane. Voi che dite? Fateci sapere nei commenti qui sotto se andrete a vedere il film e fatevi due risate se doveste andare. Un bacio a tutti, ciao!